Ciao a tutti ragazzi siamo su Modern Combat Versus e dopo una lunga assenza siamo pronti per tornare in battaglia e sbloccare nuovi personaggi insomma cercare di potenziare quelli che abbiamo già e tante altre cose comunque bando alle ciance siamo pronti partiamo subito in battaglia e pensiamo subito a farci una bella partitozza noto che qui sono cambiate un po' di cose ragazzi e che dire andiamo subito a cliccare per cercare di allora che cosa sta succedendo qua io voglio fare una semplice partita combattiamo subito allora siamo alla ricerca e vediamo innanzitutto che modalità ci capita questa volta sono rimasto un po' indietro ragazzi vediamo subito se si tratta di una conquista zona o la solita partitozza a gettoni e che dire siamo pronti siamo in 5 di 8 stavo pensando ragazzi siccome da tanto che non gioco di utilizzare can che è quello che al momento riesco a utilizzare un po' meglio quindi partiremo con can e poi dopo penseremo a cercare altri personaggi cattura la zona perfetto ok via siamo pronti mancano pochi secondi all'inizio e gli altri compagni chi sono hanno tutti quanti hanno c'è luke c'è un altro luke poi c'è k nox chi cavolo è k nox non l'ho mai visto comunque vanno le ciance andremo a vederlo andremo a scoprirlo e come dicevo sono rimasto un pochettino indietro ma siamo pronti ok andiamo subito nella zona da sbloccare la zona si sbloccherà fra 15 secondi notiamo il lucchetto alla nostra sinistra e controlliamo innanzitutto se c'è qualcuno qui che ha voglia di farsi sparare subito attenzione teniamo controllati anche gli accessi ragazzi eccoti qua eccoti qua bello è la primociglione ce la spariamo così ragazzi niente male entriamo nella zona cominciamo a conquistare e controlliamo controlliamo da dove sparano c'è qualcuno che sto sparando la zona è stata conquistata bella bella di fronte a noi ragazzi eccolo uccisione direi che cominciamo alla grande ragazzi carichiamo l'arma approfittiamone subito visto che siamo in un momento di quiete e allora vediamo controlliamo i vari accessi innanzitutto vediamo se c'è qui c'è qualcuno eccolo qui che c'è qualcuno mettiamo la nostra bolla ragazzi però magari ci devo stare all'interno eh attenzione attenzione vediamo se riusciamo a beccarlo questo vediamo se riusciamo a beccarlo attenzione di fronte a noi guardate il salto che fa attenzione no dai bloccati sono rimasto un attimo incantato lì che non riuscivo più a muovermi sinceramente comunque torniamo nella zona siamo 41 a 7 stiamo dominando il momento ma anche se in questo momento i nostri avversari hanno appena conquistato la zona quindi dobbiamo farci rispettare e tornare alla conquista eccoti qui di fronte eccoti qui di fronte cerchiamo la bolla ragazzi dai 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 dove sei dove sei dove sei è stata seccata si è stata seccata ragazzi attenzione attenzione questo ci spara carichiamo l'arma spostiamoci un attimino aspettiamo un attimo vediamo se c'è qualcuno qua ragazzi ecco che vogliono sparare dall'alto sicuramente qualcuno è qui pronto che vuole sparare dall'alto noi ne approfittiamo a stare qui sopra elevati eccoti qua bello eccoti qua eccoti qua attenzione al tappeto al tappeto attenzione stanno conquistando la zona ragazzi questo non mi ha visto vediamo se riusciamo a seccarlo vediamo se riusciamo a seccarlo non mi ha visto eccolo che mettiamo al tappeto subito attenzione c'è qualcuno che spara da queste parti vediamo se lo troviamo attenzione attenzione mettiamoci la nostra barriera ragazzi direi che stiamo dominando e vinciamo così la partitosa ragazzi ok che dire ce ne spariamo subito un'altra ci riproviamo ragazzi visto che siamo belli caldi ci siamo giudicati un secondo posto nella nostra squadra con 1425 punti mentre al primo posto la nostra squadra si è giudicato 1500 punti siamo pronti per prenderci delle casse e siamo pronti per affrontare un nuovo match ragazzi ok allora innanzitutto facciamo così avviamo la cassa che intanto lei va avanti per i fatti suoi poi prendiamoci uno dei premi giornalieri che sono 15 monete le accettiamo molto volentieri e siamo pronti per combattere subito in una nuova sfida vediamo in atti tutto su che mappa siamo questa volta se siamo sempre sulla stessa o si cambia repertorio siamo in sette giocatori su otto siamo ormai quasi pronti per iniziare e attenzione 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 si sta per partire 10 secondi 12 chi lo sa quanti ne saranno ancora ok manca poco eccoci qua siamo pronti benissimo siamo sulla tempesta di sabbia sempre in controllo zona pronti per partire manca 10 secondi all'inizio del match siamo in due soldati a utilizzare can c'è qualcuno che utilizza vediamo lock e swift un altro lock no sono sono un po indecisi ragazzi comunque si parte manca poco tre secondi all'inizio pronti polpastrelli caldi via che si parte via subito verso la zona da conquistare attenzione seguiamo i nostri compagni eccoti di fronte bello uno al tappeto ragazzi attenzione mettiamoci al riparo perché qui questi sparano grosso ragazzi sparano grosso aiutiamo il nostro compagno di squadra ragazzi anche se c'è uno scudo questo riusciamo magari a spaccarlo da dietro attenzione ragazzi siamo andati k.o. al tappeto senza che ce ne siamo neanche resi conto ok si ritorna questa volta sono belli infocati ragazzotti attenzione attenzione eccoli 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 e hanno subito parecchio stavolta ma non è bastato ragazzi per mettere al tappeto attenzione uno lo mettiamo al tappeto mettiamoci al riparo immediatamente la nostra bolla ormai quasi pronta attenzione attenzione abbiamo tower qui davanti a noi ci stavano in tutti i nodi per metterci al tappeto e mi sa che ci sta anche riuscendo ragazzi mi ha beccato a distanza tower è un osso duro siamo 0 a 58 60 ok ragazzi questa volta stiamo veramente stra perdendo vediamo se riusciamo a contendere la zona così vediamo se se ne accorgono ehi bello vieni 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 che la conquista della zona è in corso rimaniamo imboscati qui per un attimo ragazzi vediamo se ce la facciamo attenzione attenzione mamma cacchio il mio compagno di squadra lì cosa sta facendo sta dormendo ok siamo 17 83 la zona sta per essere conquistata nuovamente dai nostri nemici attenzione calcio ci ha messo il tappeto ragazzi calcio ci ha messo il tappeto è sconfitta questa volta ce la siamo giocata proprio male ragazzi 21 al 100 è andata proprio malissimo che dire ci siamo un po impegnati non abbastanza non abbiamo avuto il giusto diciamo feeling con la nostra squadra ci siamo giudicati un primo posto nella nostra squadra e con 990 punti ma non è stato abbastanza perché gli avversari erano veramente cazzuti comunque che dire ragazzi concludiamo qui questo video mi raccomando leggete sotto in descrizione tutti i nostri appuntamenti e durante la settimana grazie a tutti da vostro ascolto e alla prossima ciao a tutti ciao